Ciao ragazzi, un saluto da Alessio. Allora, ma si può? Ma io dico no? Una Sampdoria spenta, anche se nel primo tempo l'ho vista, diciamo che controchierava un pochino, però niente di che. Però ragazzi, un messaggio per la lube. Allora, voi dite sempre, ma che cazzo cantate? Che avete vinto 9 scudetti, ma che cazzo cantate? Dai, ma dai, dovete fare una fatica per, che ne so, qualcuno magari di, che ne so, con legno, canzone sopra, lì, per cantare lo scudetto. Che non vincere 6, ma, ma pensate, non può essere una cosa, dice, ma pensate, ma come, come, come ragiona la gente, è pazzesco. Va bene, comunque, e, quindi, ieri c'era Demon, la partita, è stato bellissimo, come sempre. Quindi, ragazzi, ieri c'era 2, Sampdoria 0, niente da dire. Stasera c'era Serie B, Serie B, Serie B, Serie B, Serie B. Il campionato degli italiani, te, ciava. E poi, domani, ci sarà, Parma, Atalanta, arbitro, Pairetto, e, Inter-Napoli, Al-Azzarola, Inter-Napoli, Inter-Napoli, Inter-Napoli. Io, da Napolitano, ovviamente, ti fu Napoli, tanto, lo scudetto, ormai è andato, però. Io, ovviamente, ti fu Napoli, però. Io, ripeto, lo scudetto è andato, quindi, cazzo, me ne prego all'Inter. Quindi, ragazzi, te, ciapa. Inter-Napoli, Valeri, te, ciapa. Quindi, ragazzi, stasera c'era Serie B, 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 Serie B. Ok. Stavo dicendo che, ok, dai, prendiamo le cuffie. Quindi, ragazzi, vi saluto, ci vediamo, probabilmente, domani, dopo la partita tra Parma e Atalanta. Ah, domani potrebbe esserci Luca Mastrangelo. Uh, uh, Luca Mastrangelo, Inter-Napoli. Eh, bella, bella partita. Bella, bella, bella partita. Vediamo se c'è. Quindi, ragazzi, ci vediamo domani. Buona giornata e buonanotte per stasera e buonanotte e buona giornata per domani. Ragazzi, a domani, fate i bravi, come sempre. Ragazzi, vi saluto e ricordatevi, come sempre, che adesso vi vuole bene. A domani, a domani sera.